Noi non abbandoniamo i pazienti, ovviamente in condizioni diverse da quelle solite, usuali, ma il servizio per i pazienti ovviamente continua. E quindi, come dire, dobbiamo selezionare le situazioni urgenti da quelle meno urgenti. Ovviamente quelle urgenti vengono tutte espletate, sia a livello chirurgico che a livello di visite. Abbiamo istituito una sorta di call center, di triage, dove uno specialista dermatologo dalle 8 alle 14 tutti i giorni, escluso la domenica, risponda alle vostre chiamate e quindi valuterà le vostre esigenze. Se queste rivestono un carattere di urgenza e necessitano pertanto di una visita o di un intervento chirurgico, verrà fatta una valutazione, vi verrà dato quindi un appuntamento presso degli ambulatori che non sono qui al San Donato perché al San Donato assolutamente i pazienti non devono venire, almeno per la dermatologia, quindi vi verrà indicato sia l'ora che il giorno in cui vi dovete presentare questo ambulatorio e quindi verrete presi in carico e valutati, quindi avrete delle risposte, delle risposte in una sete ambulatoriale o di una salettina chirurgica. Se invece la cosa si può risolvere telefonicamente, noi vi daremo dei consigli e vi spiegheremo come fare per poter risolvere o affrontare il vostro problema. Io qui ho scritto il numero a cui potete rivolgervi, lo vedete qui scritto, dalle 8 del mattino alle 14, tutti i giorni, sabato compreso, escluso la domenica.